Festival Biblico, 19esima edizione, Genesi 1, 11. Quale sarà il filo conduttore di questa ennesima edizione? L'anno scorso avevamo l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, e quest'anno abbiamo il primo, anzi, i primi 11 capitoli dove c'è un po' l'inizio di tutto, l'inizio del senso, per cui l'idea di aver scelto questo libro è anche far farci questo viaggio alle origini, ma per capire che nelle origini si parla dell'oggi, si parla del presente, come sempre. Ci sono anche quest'anno tanti appuntamenti, nel fine settimana, venerdì 5 maggio, sabato 6 e domenica 7. Citando solamente alcuni dei numerosi appuntamenti, l'inaugurazione, venerdì 5 maggio, come sarà? Noi abbiamo chiesto a Luigi Bruno e poi a questo Don Stefano che è un po' un testimonia, mentre Luigi Bruno è economista ma anche biblista, cioè lui mette insieme veramente due chiavi di lettura che però con questa modalità che fa riflettere e con una realtà concreta. Ci darà una mano poi Andrea della Sand Artist che ha preparato apposita, veramente qualcosa di spettacolare, con la sabbia e raccontandoci la Bibbia attraverso le immagini. Sarà un'inaugurazione quindi che mette insieme riflessione, profondità ma anche una evocazione di venerdì. Ricordo che proprio quel venerdì al mattino per le scuole faremo un viaggio al cuore dell'universo con un'attrice, io lo chiamo uno scienziato, che è il nostro grande collaboratore degli astrofili, Raffaele, Francesca Botta invece è l'attrice, perché abbiamo voluto chiedere al nuovo telescopio, James Webb, di darci una mano a andare a scrutare l'origine dell'universo, perché sembra un viaggio nello spazio ma sarà un viaggio nel tempo. Per la giornata del sabato piena di appuntamenti a partire già dal mattino all'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia Dimensione Culturale, Fratello Sole, Sorella Luna, come sarà? L'idea di aver chiesto intanto alle voci femminili che ci fanno riflettere, quindi l'ambito se vogliamo è quello della filosofia, perché Genesi 1-11 si occupa appunto del creato, così come è stato fin dall'inizio voluto bello, così come ce lo canta San Francesco, abbiamo bisogno di bonificare molto il nostro sguardo e di lasciarci aiutare da persone esperte a riguardare ciò che ci circonda con occhi nuovi. Nel pomeriggio nel Salone dei Viescove alle 17.30 il Paradiso Terrestre con una domanda meta o partenza? L'idea è anche di, noi ci facciamo dare una mano anche questi anni, ci siamo fatti dare una mano anche da Dante Alighieri dopo l'anniversario, abbiamo visto che anche Dante si occupa del Paradiso Terrestre, lo cita addirittura nel Purgatorio come ambiente, come luogo, quindi anche le parole sue saranno un aiuto per capire che il Paradiso Terrestre viene citato come un inizio, ma di fatto è anche qualcosa verso cui andiamo, quindi verso una meta ideale. In serata, un bellissimo appuntamento intitolato Oltre il Petroglio, il Teatro Alcione di Verona, uno spettacolo su clima e ambiente con un attore famoso al pubblico. Sì, abbiamo visto questo spettacolo di Patrizio Roversi, quindi abbiamo chiesto anche una voce diversa, un po' fuori dal coro forse rispetto a quelle che noi conosciamo nel nostro mondo ecclesiale, che però è molto compatibile con i nostri temi, anzi forse ci stimola. E il linguaggio dello spettacolo, che però ti dà la profondità degli argomenti, aiuta tanto a uscirne sempre con una specie di esperienza trasformativa, perché ormai il tema ambientale ci sta coinvolgendo un po' tutti e abbiamo bisogno di parlarne in mille modi diversi. In questi giorni sarà sia il sabato che poi la domenica a Castel San Pietro visibile la mostra In Cammino verso il Paradiso, visita guidata alla mostra Il Mio Purgatorio, Dante Profeta di Speranza. E poi un appuntamento importante per il mattino della domenica, sempre all'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, Lampada per i miei passi e la tua parola. Sì, da qualche anno come festival pensavamo di affidare a delle persone che vengono da un mondo diverso, quindi anche con delle prospettive come in questo caso di Giuseppina Vallone, psicoterapeuta, una meditazione. La capacità di meditare e di approfondire la Bibbia non è solo degli esperti o degli addetti ai lavori, ma può essere di persone che invece si confrontano con la Bibbia e ti danno una loro profondità. Sappiamo che Giuseppino Vallone ha fondato la Casa di Deborah, quindi porta con sé anche un'esperienza di attenzione alla marginalità e quindi ci aiuterà a penetrare ancora di nuovo il testo biblico. In serata altri due appuntamenti, alle 17.30 il primio Una città e una torre, la chiesa di San Luca Evangelista. Come sarà? In questo caso queste meditazioni riguardano il mattino e la sera, sono questo gioco di aiutarci ad avere nell'arco della giornata un pensiero. Abbiamo chiesto a Sor Grazia Papola, biblista, di darci una prospettiva della Torre di Babele così conosciuta, forse più per la sua immagine, perché è spettacolare questa immagine, eppure nasconde un significato di un'attualità incredibile. In chiusura poi Adamo ed Eva presso la Basilica di San Zeno, l'uomo molto importante per tutti i veronesi e non solo, la parola scolpita con il docente di iconografia Don Antonio Scattolini. Don Antonio lo conosciamo ormai da anni come ci aiuta a penetrare le opere d'arte con il punto di vista teologale, spirituale. Avremo anche la voce di un ebreo, Davide Assael, che già conosciamo, è veramente una voce ebraica che ci fa approfondire. Poi abbiamo questa Bibbia scolpita sul portale, sulla facciata della nostra splendida Basilica Romanica e quindi sarà interessante leggere la Bibbia come una parola scolpita sulla pietra con questa immagine del Libro della Genesi. Quindi tanti appuntamenti per riscoprire questo grande libro che può dare tanti spunti per vivere appieno la vita di oggi. Esatto, scoprire che la Bibbia parla sempre di attualità, che Caino e Abele siamo noi, che Adamo ed Eva siamo noi, che quando noi costruiamo la nostra città stiamo costruendo una torre di Babele, come anche stiamo costruendo la città degli uomini, della pace. Quindi Genesi parla di noi. Grazie a tutti.